La rispinta senegalese, il contropiede Giuffe, attenzione Giuffe, Giuffe in vantaggio su Song, Giuffe il tocco per Camara, attraversa! Il rilancio e il Senegal in contropiede, è micidiale Giuffe, è rimasto in vantaggio su Song, ha toccato per Camara il sinistro, attraversa e via, Senegal pericoloso, Cameron alla frusta, messa alla frusta la difesa, sul secondo palo il cross, Lungo per Giuffe, recupera palla il giocatore senegalese, tocca all'indietro, di Calla recupera Jaillet, Giuffe, molto bello per Camara, Camara di rigore, Camara, Camara tira, non segna, c'è la grande deviazione di Aliumbucar! A sventare la minaccia, non c'era assolutamente fuori gioco, pregevolissimo il lancio di Giuffe, bellissima apertura, bellissima imbeccata, gran parata di Aliumbucar, un'ombra da Chateau! Ottimo lavoro di Giuffe, Giuffe è in gran forma poco fuori, è Giuffe che gli ha risposto, dunque c'è anche questo motivo polemico nella gara, eccolo Giuffe, il tiro! Palla che finisce di poco fuori, grandissima occasione per Giuffe, eccolo qua, gran sinistro, Giuffe sfiora il palo alla sinistra, di Aliumbucar, palla vicina quantomeno al palo! Rivediamo il tiro, Giuffe scambia con Giuffe, ancora il passaggio per Camerun che cresce, vediamo se il Senegal risponde! Camerun, Chateau, Giuffe difende il pallone, due su di lui il tunnel, splendido di Giuffe, grandissima azione di Jaillet! Traversone basso di Vomet, prova a ripartire insieme sul piano tecnico e delle conclusioni, Giuffe continua a meravigliare, grande Giuffe! Lo sovrasta Giuffe che imposta su Giuffe, si chiude la difesa del Camerun, Giuffe è da solo, resiste nell'azione personale, guadagna un fallo, calcio di punizione Senegal, potrebbe esserci un'ammunizione, vediamo! Lufa di Gà, appoggia a sinistra per Giuffe, Giuffe finisce a terra, fallo di Songha, i suoi danni!